Anna Manno, docente del liceo Calamandrei di Napoli per il progetto a scuola con l'autore. Ci parli di questa bellissima iniziativa. Sono 23 anni che lavoro con la Mondadori e con i ragazzi del liceo Calamandrei e facciamo questo progetto a scuola con l'autore. Leggiamo il libro, incontriamo l'autore e poniamo le domande. Il progetto poi si conclude con mare, sole e cultura che si tiene a Positano, i mesi di giugno e di luglio. Quest'anno, il 23 giugno, abbiamo incontrato Francesco Sole che ha presentato il suo libro Ti amo e invece oggi lo abbiamo invitato a scuola al Calamandrei per parlare del suo nuovo libro che si chiama La Giustacori. Lavoro molto interessante per quanto riguarda i ragazzi. Qual è il risultato che avete ottenuto in questi tanti anni di esperienza? Allora, avvicinare i ragazzi alla lettura innanzitutto e poi loro potranno, letti due libri, almeno due libri, possano avere credito scolastico. Francesco Sole, l'autore di La Giustacori, quest'oggi al Calamandrei di Napoli per parlare del suo libro, il nuovo libro La Giustacori, ma soprattutto per incontrare i ragazzi e quindi scambiare con lui esperienze e idee. Sì, non vedo l'ora, ringrazio Anna che mi ha coinvolto in questa bellissima esperienza, sono in tour in questi giorni per tutta l'Italia a parlare del mio nuovo libro che è un mix tra narrativa e poesia e insomma cercare di aggiustare il cuore a chi l'ama al concio o anche semplicemente raccontare una poesia è un'emozione bellissima e farlo con i giovani è per me un grande onore. Francesco parliamo della Giustacori, la tua idea di questo romanzo e di questo insieme di idee e poesia? Allora, come si può insomma immaginare dal titolo, il libro si impone un obiettivo, quello di aggiustare il cuore di chi lo legge. È diciamo un libro motivazionale per cercare di rinascere, rinascere nella vita, rinascere in amore o nei confronti delle persone che amiamo e che non vogliamo mai perdere. Questo libro parte da tre presupposti, amore, rinascita e morte, tre cose che collegano ognuno di noi. La prima parte è un romanzo in cui questo aggiusta cuori, aggiusta la vita di alcuni personaggi e dopo le poesie con le quali aggiusta la vita dei personaggi vengono scritte all'interno della seconda parte, quindi un libro diviso in due che nella seconda parte fa diventare il lettore protagonista delle cento poesie con le quali appunto la Giustacori vi aggiusterà la vita.